Che noia, non c'è nulla da fare qua, ho già guardato il tv e non ho sonno, cosa potrei fare? Ehi, ma se... Ebbene sì ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi siamo qui con una nuova mod che si chiama Pac-Man Arcade Mod. Aggiungerà per l'appunto il gioco di Pac-Man nel nostro Minecraft. Qualcuno potrebbe poi spiegarmi in seguito cos'è questa figura. Ma tralasciamo e andiamo alle crafting. La console si crafterà così. Cinque blocchi di legno. Un blocco di vetro. Due di colorante giallo. E una redstone. Però per giocare... Come possiamo giocare se non riusciamo neanche a rattivarlo? Semplicemente ci servono i lingotti trasformati in monetine. Bastano due lingotti in qualsiasi posizione. Diventeranno otto monete. Adesso, appena ci avvicineremo, Mojang, Mandai Namco, Pac-Man. Qua potremo about, ci dirà le informazioni. Dice che ci sono dieci ore di lavoro. Ho fatto tutto da lui. Options e qua selezioneremo come muovere il nostro personaggio. Il nostro personaggio è il nostro Pac-Man. Io metto le freccine per non confonderlo con... E quando inizieremo... Ecco, ho già perso, che bello. Non sono mai stato proprio granché a Pac-Man. Vabbè, comunque, abbi avermi visto failare come un demente. Questo era Pac-Man. Oh sì, ragazzi. Questa mod aggiunge un videogame in Minecraft. Benissimo. Per questo video è tutto. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao!